pace e bene cari fratelli e sorelle in questa diciottesima domenica incontriamo il testo meraviglioso della moltiplicazione dei pani secondo matteo è un testo profondissimo che getta luce sul mistero dell'identità di gesù sul senso profondo della sua vita specialmente dell'eucaristia e di conseguenza getta luce sul senso della nostra vita potremmo riassumere il tutto in una frase la vita è un dono da donare vediamo un po cercheremo di intrecciare come sempre alcuni elementi esegetici ed esistenziali gesù ha ricevuto la notizia della morte violenta di giovanni e avverte il bisogno di ritirarsi in disparte e si reca in barca in un luogo deserto con il richiamo al deserto l'evangelista si riallaccia anche alle tematiche dell'esodo infatti si credeva che il messia avrebbe compiuto gli stessi prodigi di mosè e in particolare si attendeva nuovamente la manna dal cielo quindi l'evangelista ci presenta gesù come il messia che porta compimento tutte le attese messianiche nel testo poi possiamo identificare tre scene le folle che vanno da gesù e la sua compassione l'incomprensione dei discepoli che volevano rimandare le folle quindi l'iniziativa di gesù e le folle abbondantemente sfamate primo punto la compassione di gesù gesù come abbiamo detto si ritira ma la gente lo cerca fa tanta strada per andare da lui lo seguono a piedi costeggiando il lago di galilea gesù non tarda ad andare loro incontro come già gli era accaduto vede le folle freme di compassione e se ne prende cura abbiamo qui la dinamica della compassione in tutta la sua struggente concretezza propria di chi vede l'altro vede il bisogno dell'altro sente dentro di sé il dolore dell'altro e per l'altro e si dà da fare per lenirlo ecco la compassione di gesù non rimane mai nell'interiorità un solo sentimento ma è sempre operativa e da vita qui abbiamo un primo messaggio meraviglioso la compassione che il signore ha per noi per me per te compassione che tocca sana guarisce e si riversa copiosa su quanti lo cercano specie nel dolore sì possiamo ben dirlo dio ci ha a cuore dio mi ha a cuore non è indifferente alle mie sofferenze ma vede sente compassione e mi viene incontro ti viene incontro per toccarti con la sua grazia questo ci fa anche interrogare su quanto il nostro cuore si sappia smuovere commuovere e mettere in cammino davanti alle sofferenze degli altri tante volte siamo come impassibili mettiamo una sorta di doppi vetri tra noi e i bisogni di chi abbiamo accanto quanto è prezioso invece imparare a vedere i bisogni dell'altro ad ascoltarli senza giudicarli imparando a metterci nei panni dell'altro sentendo per lui per la situazione che vive anche con partecipazione e quindi e quindi facendo ciò che è possibile per sostenerlo incoraggiarlo aiutarlo concretamente sul far della sera ecco la seconda scena si avvicinano a gesù i discepoli quasi ad interrompere l'azione di compassione di gesù e lo interrompono per una questione molto pratica mandarvi alla gente perché perché ora di cena è tardi luogo è deserto il tutto sembra essere mosso da buonsenso da ragionevolezza in realtà visto in profondità possiamo dire che tutto ciò nasconde una mancanza di comprensione di gesù e di carità gesù infatti non è d'accordo con la richiesta dei discepoli non è la folla che deve andare a comprarsi da mangiare ma sono i discepoli che devono dare loro da mangiare è interessante perché abbiamo una frase greca costruita in modo particolare che potremmo tradurre date a loro voi da mangiare come ci risuona come se gesù invitasse i discepoli non solo a dare il pane necessario ma persino a farsi pane e cibo per quella folla anticipando così il tema della cena eucaristica durante la quale gesù si farà pane per questo l'evangelista pone l'indicazione sul far della sera la stessa dell'ultima cena di gesù quando gesù prese il pane disse prendete mangiate questo è il mio corpo dall'accoglienza di questo dono meraviglioso della presenza viva del signore in mezzo a noi specie nell'eucaristia scaturisce la spinta a donarci a nostra volta e la richiesta esplicita del signore a farlo date a loro voi da mangiare spinge oltre i discepoli li coinvolge li responsabilizza dategli voi quello di cui ha bisogno partite da quel che potete fare voi per loro il signore dunque gli chiede e ci chiede di fare un passo avanti nell'amore per farci prendere consapevolezza che proprio lì nel tuo fratello nella tua sorella marito moglie figlio estraneo fratello sorella di comunità amico collega povero che incontri per la strada proprio lì nel suo bisogno proprio lì nel bisognoso c'è il signore stesso che nel giorno del giudizio dirà vieni benedetto dal padre mio avevo bisogno e mi hai aiutato oppure lontano da me maledetto perché avevo bisogno e non mi hai aiutato ma abbiamo poco basta appena per noi ecco la resistenza dei discepoli sintomo di incomprensione della grandezza di gesù qui abbiamo un altro splendido monito esistenziale quante volte in casa come tra gli amici si sente dire non posso aiutarti più di questo non mi è possibile oppure senti io il mio l'ho fatto ora veditela tu la domanda è ma siamo sicuri che non possiamo davvero o piuttosto non vogliamo è davvero mancanza di beni di tempo di possibilità o in fondo è mancanza di carità non è che forse stiamo mettendo dei limiti rinchiudendoci nel nostro egoismo mi vengono in mente le parole di un religioso che raccontando la sua esperienza di sé oggi ho avuto tanta forza da una scena che dio mi ha messo sotto gli occhi ho visto un povero lebroso che non camminava più che si trascinava senza gambe l'ho visto aiutare un bambino poliomielitico a camminare il piccolo era aggrappato le sue spalle e lui si trascinava a carponi intorno alla capanna per farlo camminare la scena mi ha fatto piangere e mi ha fatto chiedere perdono a dio per tutte le volte che davanti ad una carità ho detto non posso ci siamo così abituati a dire queste due parole che le portiamo in noi costantemente ma è proprio così è veramente non posso o piuttosto non voglio come dice spesso fra faustino quante volte ci mettiamo dei limiti ma chissà se quelli sono veramente i nostri limiti ed eccoci alla terza scena cosa fa gesù prende cinque pani due pesci alza gli occhi al cielo pronuncia la benedizione spezza i pani e li dà ai discepoli e discepoli li distribuiscono alle folle in fondo sono gli stessi gesti compiuti da gesù nell'ultima cena quei gesti alla vista dei quali persino i due discepoli in cammino verso emmaus lo riconosceranno come risorto quei gesti che noi ripetiamo al centro e al cuore di ogni celebrazione eucaristica possiamo dire che questi gesti sono la sintesi di tutta la vita di gesù consegnata fino alla morte per amore nostro per amore di ognuno di noi ecco il senso profondo di questo segno compiuto da gesù come cristo ha consegnato la sua vita per noi così ognuno di noi suo discepolo è chiamato a donare la sua vita per gli altri che bello notare i miei cari come questo poco messo nelle mani di cristo questi cinque pani e due pesci venga moltiplicato basti per tutti e ne avanzi pure segno della sovrabbondanza di quella salvezza che gesù è venuto a portare potremmo dire che la matematica in dio è tutta particolare quello che condividi lui lo moltiplica e anche qui abbiamo un altro splendido messaggio esistenziale con il quale concludiamo noi spesso pensiamo di non avere abbastanza o di non essere abbastanza bravi sapienti ma per il signore non conta quanto tu abbia o quanto tu sappia ma che quello che sei e che hai lo sai mettere a disposizione lo condividi lo sai mettere nelle sue mani e allora il signore anche attraverso la tua povertà i tuoi poveri mezzi farà meraviglie ciò che metti nelle sue mani ciò che condividi lui lo moltiplica e non solo ma quante volte magari in preda alla stanchezza alla fatica abbiamo scelto di donarci comunque di spezzarci di spenderci per chi avevamo accanto e abbiamo visto come le energie moltiplicarsi quando diciamo di sì all'amore e scegliamo di donarci dio moltiplica forze risorse chiediamo allora al signore che questo testo rinvigorisca la gioia nei nostri cuori certi che gesù si prende cura di noi donandoci tutto se stesso tutta la sua vita affinché anche noi assumendo il suo stesso sentire e agire possiamo far della nostra vita un dono per gli altri un capolavoro d'amore che il buon dio vi benedica tutti pace e bene